Valorizzare il Made in Italy attraverso i nuovi piani individuali di risparmio. Banca Montepaschi e AXA hanno presentato a Livorno il terzo appuntamento dedicato a questi nuovi strumenti fiscali introdotti dalla legge di bilancio per agevolare il finanziamento alle piccole e medie imprese italiane. Banca Montepaschi affonda le sue radici su questo territorio, su questa comunità. La sua mission principale è quella di aiutare la crescita di questi territori. L'incontro come quello di oggi rappresenta in modo molto diretto e concreto cosa fa la banca per i suoi clienti, cosa fa la banca sui territori. Oggi parliamo di PIR, i piani individuali di risparmio. È un prodotto recepito dalla legge di bilancio, ha avuto successo all'estero, sta avendo successo in Italia, è un forte aiuto alle piccole e medie imprese di questo paese. Per gli investitori ci sono importanti vantaggi, soprattutto in materia fiscale. Grande successo dell'iniziativa. Realmente i nostri clienti, grazie al tantà mediatico della stampa specializzata, già in anticipo hanno chiesto informazioni. I nostri uomini, con molta professionalità, sono riusciti a dare indicazioni precise anche riguardo al vantaggio fiscale che tutto questo sta generando e genererà per i prossimi cinque anni. Ma come funzionano i PIR? Tre passaggi fondamentali. Il primo è che questa è una soluzione PIR compliant. Fa bene all'economia italiana e alle piccole e medie aziende. Il tutto, tra l'altro, in esenzione fiscale per chi sottoscrive queste soluzioni a dei rendimenti positivi. Come perseguiamo questi rendimenti? Attraverso tre fondi interni disponibili. Questi tre fondi sono mixabili e personalizzabili a seconda del profilo di rischio del cliente. Il terzo elemento è la capacità della rete commerciale di fare un ottimo livello di consulenza. E noi, con Banca Monte dei Paschi, con cui collaboriamo da più di dieci anni, veramente abbiamo un'ottima esperienza in tal senso. Quindi direi che ci sono tutti gli elementi per fare veramente un bel lavoro di consulenza sui portafogli dei nostri clienti.